Nel 2008 ho pubblicato un libretto, Roma-Madrid e poi, a proposito dei Family Day che erano stati organizzati anche con successo in Italia e in Spagna. A un certo punto c'era un capitoletto in cui scrivevo I Catari sono tornati? Chi sono i Catari? I Catari sono un movimento ideologico, gnostico, che ha devastato le regioni della Provenza e dell'Italia settentrionale. Devastato perché? Perché erano uomini che, in aperto contrasto con Dio, come la Gnosi di tutti i tempi, Dio ha creato, e la Genesi dice, ogni giorno della creazione, e vide che era cosa buona, e vide che era cosa molto buona, e gli gnostici dicono che non era cosa buona per niente la materia, perché la materia è una realtà cattiva, che limita lo spirito. Pertanto, quali erano le conseguenze che gli gnostici tiravano? Ebbè, bisognava suicidarsi per raggiungere il prima possibile la perfezione delle stelline spirituali. Bisognava impedire che la vita si propagasse sulla terra, l'omosessualità era esaltata, il matrimonio disprezzato, l'aborto esaltato, perché tutto puntava a far diminuire la popolazione sulla terra, cioè a far diminuire l'aspetto cattivo del mondo voluto da Dio. Oggi la Gnosi è al potere ovunque, è al potere nelle massime istituzioni mondiali, ma non lo fa più apertamente perlomeno, contestando Dio dal punto di vista della bontà della materia, apertamente perlomeno non è così. E come lo fa? La Gnosi lo fa decretando che la popolazione sulla terra per bacco va dimezzata, va perlomeno dimezzata, perché non abbiamo abbastanza strumenti per sfamare un numero così esorbitante di persone. E allora, e allora in questo contesto, tutte le realtà culturali che la cultura dominante propone, hanno un denominatore comune che è proprio questo, la lotta alla vita. E quindi l'aborto, ecco, qual è la novità radicale di questi giorni, di questi movimenti gnostici? È che tutto viene passato in nome del diritto. È un diritto, è un diritto di sposarsi se sono omosessuale, è un diritto, è un mio diritto di avere figli, costi quello che costi, costi utero in affitto, qualsiasi cosa, è un mio diritto, è un mio diritto far sì che lo Stato appoggi il mio desiderio di morire con la cosiddetta eutanasia. È un mio diritto, ecco, tutte queste realtà gnostiche passate per diritto, ma in fondo, in fondo, a cosa mirano? Mirano sempre lo stesso partito, cioè mirano a combattere Dio e combattere la creazione che Dio ha fatto, perché questa creazione non è buona, così non è buona. La creazione va migliorata, in nome, questa volta, in nome dei diritti che devono istituire il regno di che cosa? Il regno della morte, perché lì siamo sempre allo stesso punto, il regno della morte. L'aborto, diritto alla morte. L'aborto adesso lo vogliono nominare diritto principale degli Stati, un diritto naturale. Così vogliono fare i democratici in America, così vuole fare l'Europa. Ecco, diritto naturale l'aborto.